Ciao! Oggi faremo un video bellissimo! Tanti auguri di Buon Natale! Guardate questo bellissimo pacco! Dentro ci sono tantissimi regalini per voi. Adesso, una alla volta, venite, pescate, apriamo e vediamo che cosa vi capiterà. Va bene? Questo è il nostro regalo per voi. Alessia, mi sa che trovi a te! Vediamo, un pacchettino, primo pacchettino. Che belli! Cosa sono? Mi sa dei burro cacao. Cosa? Mi sa dei burro cacao. Vediamo. Belli! Dell'unicorno, eh! Sono dei burro cacao. Ah, che bello! Camilla! Che baccone, eh! Vabbè, la stessa. Che bello! Mi piace! Che bello! Bellissimo! Bellissimo! Irene! Ma è bello! È come quello che abbiamo noi nel video, quasi! È uno scogliattolo, sì! Ti piace? Alice! Bellissimo! Bellissimo, Ali! L'edizia! Babucine! Mickey, vieni! Mickey, vieni! Ecco, mi servivano. Così quando andiamo in gara... Che belli! Marti, vieni! Stupendo! Per colorare! Eh? Sono pastelli? Sì, io sono... Con sugli svaroschi! Sì! Bellissimi! Sono matite! Matite! Sono le matite? Sono le matite? Sono le matite? Quelli con sopra gli svaroschi! Sì! Vieni, Marti! Vieni, Marti! Io devo aprire male, perché non sono capace di... Sì, sì! Vabbè, la carta si strappa, no? Ragazzi, io ho ricevuto dei trucchi! Ora faccio vostro! Che belli! È l'eyeliner e mascara e dei brillantini! Che bello! Vieni, Giadi! Adesso mi aiuta a pescare un altro unicolo. Non è la nostra chiamata, già sì! E' una macchina! Sì, sono le chiavi di una macchina! Te l'abbiamo impacchettata fuori! Che carini! No, sono bellissimi! Che belli! E' un adoro! Io uso tutto tantissimo! Mi ce li fai vedere anche a noi? Evidenziatori! E i post-it! Sono bellissimi! Faddi! Non devo guardare? Che belle le tazze! Che belle! Bellissime! E non me le fai vedere? Non le faccio vedere! Che belle! Morbidose! Vieni, Emma! Eri, comincia a venire qua! Ah, non posso guardare! Dai, vai! Questa era facile da impacchettare! Questa è una macchina! Sì! E' un profumo! Sì, è un profumo! Che fragranza è? Cos'è difficile! C'è scritto! Non c'è scritto! Non c'è scritto? Vabbè, poi... Forse c'è scritto! Lo senti e ci dici che fragranza è! Erika! Ah, no, ma ce ne sono ancora due! Pensavo ce ne fosse solo uno, in realtà! Lo sono rossetti? Non credo! Sì! No! Non lo so! 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 Due rossetti! Vieni, Ale! Un altro giro! Un altro giro! Ma che bello! Bianchette! Che belli! Sono ancora... Sono dei pennarelli? Sì! Bello! Che bello, Ale! Sei un po' fortunella, eh! Vai! I re! Questo! Questo posso fare? È tutto uno! Che belle! Le belle! Cosa sono? Sono le pietre di Fledder! Ah! Ali! C'è prima te? Che carino! Un portacchiavi! Che bello! Che bello! Che bello! Con un burro cacao! Con un burro cacao! No, dai! Questo è le chiaglioramenti della macchina! Che belli! Cos'è? Cos'è? Cos'è un burro cacao? E questo è... Uno smaltino! Bello! Bellissimo il colore! Vieni, Leti! Voglio portarvi la scatola! Voglio portarvi la scatola! Anche io! Ho il... Come si chiama? Un smalto! E un portachiavi! Ah! Un elastico! Che bello! Marti! Marti, avvicinati pure! Ti frega il regalo! Attenzione! Guardare! Sono delle spugnate per i trucchi! Emma! Marti! Che bello che io ce l'ho! Bellissimo! Giadi! L'ultima riga si avvicina un po'? È bellissimo con le lato! Giadi! Che c'è? Che c'è? Niente! Invece ridere! Arriva, eh! Ma sono... Delle limette! Delle limette! Oddio! Che belle! Che belle! O mi servivano proprio! Me le fai vedere anche a me? Belle! Vieni, Emma! Eh, no, no, mi viene! Non l'ho visto, lo giuro! Ah, dici che non sono trucchi? No, non è quello, guarda! Emma era... Ce la posso fare? E invece? Sì! Sì! Guarda che bella! La bella, la letizia, mi dispiace! Guarda! Ah, è bellissima! È bella! È bella! Guarda che bella! Ultimo regalo! Eccola! Non l'ho vista, neanche! No, no! Ma è bellissimo! Trucchi! Sì! Siete contenti dei regali? Sì! Grazie! Grazie! Grazie a tutti! Ciao! Grazie.